Per me la danza è come un viaggio, un viaggio che ho cominciato da piccola, che continuo tuttora nel bridge, che ovviamente vorrei continuare. Un viaggio un po' alla scoperta di me stessa, del mio corpo, delle mie capacità, di sensazioni, emozioni che con la danza si possono provare. È come un viaggio verso un mondo sconosciuto, che è tutto da esplorare. È un po' di esprimermi, in cui posso far vedere al mondo cosa davvero provo dentro, essendo completamente me stesso al 100%. Quando ballo mi sento come se non ci fosse niente attorno a me, come se ci fossi solamente io. All'interno del bridge abbiamo una vastità di discipline, che vanno dalla danza classica all'acrofloor, che comprendono il power yoga e la danza contemporanea, ovviamente, di cui studiamo la tecnica, pigato contemporary e anche partnering. Ci svegliamo molto presto, chi più chi meno. Ci prepariamo e andiamo subito qua in sala. Ci scaldiamo una mezz'oretta prima della lezione. Prima abbiamo classico, poi una lezione di contemporaneo o acrofloor, power yoga, coreografia. Poi tutte le prove di soli, altra coreografia, gruppi, passi a due, tutto il metodo pigato e tutti gli altri insegnanti. È un ambiente molto caloroso. Siamo una famiglia. Viviamo insieme e siamo in tanti in appartamento, ma si è creata una sorta di complicità e di aiuto, di condivisione. E da quando sono qui riesco a vedere sempre di più la danza nel mio futuro. Il bridge ci permette di coltivare la nostra unicità in campo artistico e anche per quanto riguarda il lato umano. Il bridge ci permette di coltivare la nostra unicità in campo artistico e anche per quanto riguarda il lato umano. Il bridge ci permette di coltivare la nostra unicità in campo artistico e anche per quanto riguarda il lato umano. Il bridge ci permette di coltivare la nostra unicità in campo artistico e anche per quanto riguarda il lato umano. Il bridge ci permette di coltivare la nostra unicità in campo artistico e anche per quanto riguarda il lato umano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.